Musica Cari amici eccoci al consueto appuntamento con le previsioni meteo di tempo al tempo. Diamo subito insieme uno sguardo alla situazione generale prevista per giovedì 26 gennaio. Il sud-est italico è ancora interessato da un'attesa ventilazione mediamente settentrionale che tuttavia risulta più secca ed in graduale attenuazione. Ed ora più nel dettaglio vediamo cosa accade in Puglia. Giornata nel complesso discreta con ampi spazi soleggiati, eccezione fatta per residui o nuvolamenti al mattino a ridosso della dorsale e nel corso della giornata sul Salento, specie orientale con qualche rovescio su murge, prindisino e leccese. Adesso spazio alle previsioni per la Basilicata ed il Molise. In Basilicata al mattino sulle coste schierite alternate a nubi sparse, in montagna cielo nuvoloso con solo qualche raggio di sole, nel pomeriggio ancora nubi sparse alternate a tempo soleggiato sul litorale e a schierite nelle zone più alte. Anche in Molise sulle coste nubi sparse alternate a schierite al mattino e a cielo soleggiato al pomeriggio, in montagna cielo nuvoloso con solo qualche raggio di sole al mattino e nubi alternate a schierite al pomeriggio. E infine la situazione prevista per le temperature, i venti e i mari. Venti tesi forti da nord-est e nord-nord-ovest con mari sino a molto mossi o agitati. Temperature in ulteriore lieve caloni minimi, massime in contenuto aumento, clima freddo al mattino. E per ora è tutto con le nostre previsioni, io vi ringrazio per averci seguito e adesso vi lascio in compagnia dei programmi di Antenna Sud. Vi auguro un buon proseguimento, arrivederci. Grazie a tutti.